Il cielo si incubisce su via Miglietta, spuntano nuove ombre sulla asla di Lecce dopo il terremoto in quella di Brindisi a causa di un presunto sistema illecito e piuttosto oliato nella distribuzione degli appalti, un meccanismo che starebbe portando a galla anche forti collegamenti con la politica. Stavolta il grande nodo si chiama ManutenCop, il colosso delle cooperative rosse di Bologna che secondo la finanza di Brindisi avrebbe corrotto istituzioni in cambio di assunzioni utilizzando a questo scopo persino un sottoufficiale della DIA che avrebbe rivestito il ruolo di procacciatore d'affari. Un'azienda ben ramificata in Puglia tanto che dalla procura di Brindisi sono partiti relativi report ben precisi all'indirizzo della procura di Taranto, Bari e Foggia, non a Lecce dove non è escluso tuttavia che qualcosa potrebbe venire a galla. E questo perché i pieni sono doppi. ManutenCop che al momento non ha in piedi contratti nella sanità leccese li ha però avuti nel recente passato. Esistono agli atti, come conferma l'Asla, intimazioni di pagamento per fatture scadute nel 2008. Ma c'è di più. Il maresciallo coinvolto nella vicenda all'epoca era in servizio presso la DIA di Lecce e ora rischia una condanna a Brindisi per aver chiesto una tangente all'ex presidente della squadra di calcio locale. Nel 2010 quello stesso maresciallo portò i manager di ManutenCop ad incontrare una dirigente dell'Asla di Lecce. Tutto scritto dai finanzieri che quell'incontro lo documentarono anche tramite fotografie. Secondo le fiamme gialle quel sotto ufficiale era il servizio di ManutenCop e si dimostrava radicato negli affari stessi dell'impresa a tal punto da vederlo convocato presso la sede amministrativa dell'azienda stessa per un incontro con uno dei massimi vertici. Se ci saranno risvolti su questo ancora presto per dirlo ma che dei collegamenti su cui approfondire ci siano già è tutto. Nero su bianco.